Prima ancora degli istituti superiori della maturità, il periodo di esami di fine anno del mondo scolastico parte dalle scuole medie. Non ci saranno prove scritte, ma gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, a differenza dello scorso anno, potranno sostenere il colloquio orale in presenza rispettando tutte le normative anti-covid già in vigore durante le lezioni. Tra le prime scuole a partire in città, l'Istituto Pirandello, che già da questa mattina ha aperto i cancelli e gli esaminandi, mentre domani sarà la volta dell'Istituto Leopardi. A differenza dello scorso anno sono esami in presenza, anche se la prova è un colloquio orale, quindi non avremo i consueti scritti. Comunque sono esami che facciamo a scuola rispettando tutte le regole del caso, come abbiamo fatto per tutto l'anno scolastico, visto che il primo grado, almeno nella nostra città, è riuscito a portare avanti le attività in presenza per tutto l'anno scolastico, ad eccezione ovviamente del periodo nazionale di chiusura di tutte le scuole. E di questo siamo molto orgogliosi, perché al di là di alcune quarantene ovviamente inevitabili, i ragazzi hanno frequentato e hanno recuperato anche quella socialità che l'anno scorso è mancata veramente tanto. Devo dire che i ragazzi sono stati la parte migliore della scuola in quest'anno scolastico. I ragazzi rispetteranno l'ordine alfabetico, saremo impegnati per circa una decina di giorni e quindi finiremo un po' prima del solito, insomma del 30 di giugno. Noi abbiamo terminato ieri di scrutinare gli alunni delle classi terze e domani partiamo con l'esame vero e proprio. Quest'anno sarà un esame in presenza, ci sarà semplicemente una prova orale. La prova orale sarà divisa in due parti, inizialmente i ragazzi presenteranno un elaborato, partendo da una tematica che hanno riscontrato, diciamo, essere vicina ai propri interessi e in questo percorso sono stati chiaramente seguiti e supportati dai docenti. Poi ci sarà una seconda parte in cui si andranno a valutare attraverso delle domande, quindi un colloquio pluridisciplinare, le competenze e le conoscenze che sono state acquisite durante questo percorso scolastico in tutte le altre discipline. Qui a Leopardi lo effettueremo nell'auditorium, che è un ambiente adatto anche a contenere le varie commissioni e gli alunni e adatto anche a garantire quello che è il rispetto delle misure di prevenzione che abbiamo comunque mantenuto per tutto il corso dell'anno. Quindi ci si manterrà una distanza minima di due metri tra il candidato e il commissario più vicino e poi si cercherà di essere attenti nella reazione e nell'utilizzo di tutte le altre misure di sicurezza. Noi abbiamo circa 115 alunni che sono stati ammessi in modo complessivo all'esame e quindi effettueranno gli esami fino al 25 di giugno attraverso una scansione temporale che li vedrà coinvolti durante la mattina e durante il pomeriggio. In effetti l'anno scorso c'è stato un pezzo che è mancato, proprio lo stare in presenza tutti insieme, l'affrontare la prova con gli insegnanti davanti. Quest'anno per fortuna ci sarà, i ragazzi sono preoccupati ma allo stesso tempo a mio avviso contenti di vivere questa prima esperienza anche perché l'esame conclusivo del primo ciclo è appunto il loro primo vero esame. Quindi sarà una bella prova per loro e sicuramente saranno contenti.